Sta per prendere forma il nuovo polo museale della città di Cornier, un grande spazio all'interno dei locali dell'ex manifattura, parliamo di oltre 600 metri quadri. Qual è il programma e che cosa ospiterà questo spazio? Si tratta di 600 metri quadri che si aggiungono a 1800 metri già allestiti a museo, in 1800 metri il museo archeologico del Canavese, adesso nello stesso piano dell'edificio in stretta connessione con il museo archeologico nasce, nascerà la galleria d'arte moderna e contemporanea del Canavese. La città ha fatto questo progetto, ha fatto una gara, CESMA si è aggiudicato la gestione per 10 anni e anche probabilmente perché ha fatto una proposta convincente. Sono molti i lavori da fare, già si sta cominciando, tra l'altro si sta cominciando con alcuni pezzi particolari, già l'allestimento del museo è un pezzo di storia in sé? Un pochino sì, come si può vedere i locali sono vuoti ma direi in tempo reale rispetto alla notizia dell'accoglimento della nostra proposta, noi avevamo in precedenza acquisito un lotto delle attrezzature della Galleria Sabauda di Torino che ha smontato le sue strutture e ha posto in vendita una parte delle sue vecchie strutture, noi le abbiamo acquisite anche perché sono strutture in ottime condizioni, molto belle, degli anni 50 in occasione di questo grande allestimento che venne fatto e che ora è diventato non più adatto anche perché la vecchia sede della Galleria Sabauda viene occupata dal Museo Egizio quindi noi abbiamo acquisito questi materiali che riprenderanno vita a Quornier e segneranno un pochino un fil rouge tra questa grande struttura museale, di Museo d'Arte che è la Galleria d'Arte Moderna e questa New Entry Quorniatese Galleria d'Arte Moderna che avrà un settore con mostre permanenti e invece un altro che sarà sempre un po' in evolversi, intanto il primo appuntamento di cui ci parlavate è la mostra su Carlin Bergoglio che chiaramente tanto è apprezzato a Quornier ed amato Carlin Bergoglio ha titolo di cittadinanza onoraria Quornier perché intanto è Quorniatese, poi ha lasciato alla città un patrimonio importante, molto importante di opere che è alla base di questa istituzione e che già in precedenza costituiva una pinacoteca oggi si vuole fare un passo avanti rispetto all'esperienza della pinacoteca Carlin Bergoglio cercando di abbracciare temi più ampi e cercando di proporre anche tematiche artistiche esterne al canavese che però possono richiamare visitatori in questo polo Tra le chicche che avete in serbo qualche anticipazione? Beh, in apertura faremo una mostra tematica su Carlin Bergoglio faremo una mostra contaminazione tra archeologia e arte abbastanza presto sull'acqua il tema è l'acqua, l'acqua in archeologia, l'acqua nell'arte l'acqua, i fiumi, i laghi, il mare sono oggetto di ispirazione degli artisti quindi sarà un tema particolare anche in fase con quella che è quest'anno, 2013, anno internazionale dell'acqua e poi abbiamo in progetto una mostra sulla rappresentazione del territorio altocannavesano in particolare delle valli del canavese da parte degli artisti di 8 e 900 e poi abbiamo una grossa chicca a cui stiamo lavorando che è l'idea, la volontà, lo stiamo già pianificando, di portare a Corni e Picasso Nonostante il grave momento di crisi e chiaramente le risorse che sono sempre meno se si vuole davvero il modo si trova e l'offerta culturale di Corniè continua a crescere? Si, si trova se ci sono dall'altra parte anche soggetti imprenditoriali disposti ad investire in questa scommessa e da questo punto di vista ringrazio il professor Cima per aver accettato questa sfida e noi siamo consapevoli che sia difficile fare cultura in un momento come questo siamo altrettanto consapevoli che il fare cultura può essere un elemento gratificante e anche una leva importante per uscire da questa crisi Un bello spazio espositivo, parliamo dicevamo di 600 metri quadri si inizierà con una mostra sul Carlin Bergoglio che poi rimarrà permanente e questa era un po' una delle richieste nel cuore di tutti i corniatesi Si, di tutti i corniatesi e non solo, ho ricevuto diverse lettere anche da cittadini non corniatesi che hanno scritto più volte sollecitando l'amministrazione ad esporre le opere di Carlin Bergoglio è un artista che sto scoprendo anch'io adesso proprio perché sollecitato un po' dalla gente dicevo prima col professor Cima che proprio ieri abbiamo avuto l'onore di ospitare la figlia del grande Silvio Piola, un giocatore di calcio importante degli anni 30 e 40 e anche lei sottolineava l'importanza di Carlin Bergoglio e dell'amicizia che legava i due